Con questo evento introduttivo a WTM, perché l'evento principale sarà il prossimo anno, continuiamo a tenere alta l'attenzione sulle tematiche importanti dell'automotive, che è dentro una grande trasformazione tecnologica. Quindi oggi parleremo di elettrificazione dell'auto, di idrogeno e di tanti altri temi. Perché Torino comunque è la capitale dell'auto, abbiamo quasi il 40% del giro di affari intorno all'automotive e quindi per noi è strategico, anche come Camera di Commercio, supportare tutte le imprese del settore della filiera produttiva dell'automotive, che non è poi solo manifattura, ma anche tutto il mondo dei servizi che sta intorno a questo grande ambito della mobilità.